Don è un'artista che inseguo da tempo e che finalmente oggi si siederà qui accanto a me e mi parlerà di cambiamento, mi parlerà di libertà. A voi, Arisa! Ciao a tutti, ciao Francesca! Benvenuta! Benvenuta, che bello avermi fatto! Accomodati! Che bello essere qua, finalmente ci abbiamo fatto! Davvero! Sono così contenta che speriamo di non emozionarmi troppo, di farti le domande giuste. Va bene! In questi anni in cui non ho mai smesso di seguirti perché mi hai sempre colpita fin dall'inizio, fin dalla tua prima apparizione sul palco dell'Ariston, ho notato che ti sei messa spesso in gioco, non hai mai avuto paura di cambiare. Allora la prima cosa che ti voglio mostrare è un video in cui abbiamo messo insieme le tue due partecipazioni vittoriose al Festival di Sanremo perché già si vedono un sacco di cose, guarda! Sincerità Adesso è tutto così semplice Con te che sei l'unico complice Di questa storia magica Sincerità Un elemento imprescindibile Io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò se non ne avrai bisogno ma ci sarò Perché così mi sento accanto a te Viaggiando contro vento Cos'è successo con i cinque anni? Io ho sempre avuto un po' un problema con i tacchi In quell'occasione, nel 2014, mi sembrava di non aver cantato molto bene la prima canzone Quindi la seconda mi sono tolta gli impicci e ho cantato Infatti è andata bene, hanno scelto contro vento Abbiamo già visto due rise molto diverse, chissà cosa succederà quest'anno Beh, in realtà dal 2009 al 2014 la mia vita già aveva subito un grandissimo cambiamento Mentre adesso siamo abbastanza stazionari Beh, insomma, negli ultimi mesi hai detto tante cose su te stessa Hai fatto tante confessioni E vorrei partire da quella foto che hai pubblicato, tra l'altro quest'estate In cui tu a un certo punto hai detto Basta, adesso proviamo ad accettarci così come siamo Con le caratteristiche che il nostro corpo ha A prescindere dal giudizio degli altri Allora ti abbiamo preparato anche una griglia Questa è una silhouette di donna Sì Vogliamo evidenziare e parlare con te Di tutte quelle cose che ci caratterizzano Tu ti sei già raccontata rispetto alla bocca È l'unica forse parte di te non originale No, 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 no Adesso è originalissima perché praticamente dopo Un lungo periodo di riflessioni sul mio aspetto fisico Se ero bella, se non ero bella, se piacevo, se non piacevo Dopo tante volte che avevo fatto magari delle infiltrazioni di acido ialuronico Non così anche consigliate da persone Quest'anno ho deciso di sciogliere tutto Dopo il 31 agosto sono tornata a casa Ho capito come fare e sono ritornata alla mia faccia Ma non perché Perché proprio volevo essere Volevo ritornare come ero Cioè non per altro Mi piaceva proprio vedere Magari qualcos'altro lo rifarò Capito? Per dire Però mi piaceva vedere Come sarebbe stata la mia faccia normale Alla mia età 38 anni Mi piaceva questa cosa Mi volevo riappropriare della mia persona Secondo elemento che ci mette in rapporto col tuo corpo Vediamo Mani Eh, mani Certo Mani perché tu contemporaneamente Se non sbaglio facevi l'estetista e il meccanico Adesso il meccanico? Non è vero? No Guarda adesso le mani che sembrano un meccanico Ti dico la verità perché C'è tanto tempo che non riesco a sistemarmela Ieri sera Sapendo che dovevo venire da te Mi sono fatta due pellicine al volo Ma io sì Io faccio l'estetista E poi facevo Ho lavorato per un po' di tempo Anche nell'officina di mio cugino Faccio un po' di cosette così Ma non è che facessi proprio il meccanico Le mani però Ogni volta che penso alle mani Io penso a mio padre Perché mio padre ha delle mani Che raccontano molto di lui È un grande lavoratore C'ha le mani tutte C'ha le mani grosse Tutte un po' spaccate Ma che profumano sempre Tu ti sei data molto da fare Per trovare la tua strada Ma anche per Essere creativa comunque No? Quando tuo padre ti veniva a prendere al lavoro? Guarda c'era un periodo che avevo lasciato Di fare tutte le cose I sogni Avevo lasciato i sogni C'era un periodo che lavoravo in un bar Ero tornata da Milano Dopo un periodo molto lungo Dove naturalmente non ero riuscita a concludere di studi E avevo fatto un po' di lavoretti così E allora mio padre e mia madre Mi convincero a tornare giù in Basilicata E lavoravo in un bar E io ho avuto sempre questa roba Che andavo sempre in giro con le divise sporchissime Perché facevo delle macchie indelebili Quindi anche se mia mamma le lavava puntualmente Io avevo sempre questi chiazzettoni così Allora mio padre un giorno mi venne a prendere Ascoltava dentro la macchina lo stereo a cassette Una cassetta dove io avevo inciso Ghost No? La colonna sonora di Ghost Immortale, bellissima, indimenticabile E io ascoltando questa cosa chiesi a mio padre Papà ma come hai fatto ancora a conservi questa cassetta Perché era passato tanto tempo L'avevo registrata a 16 anni All'epoca ne avevo 22 E mio padre mi rispose Guarda io ti ascolto qui e sono felice Ti vedo così e mi viene lo sconforto E quindi considerando che loro dopo i 18 Mi avevano caldamente incoraggiata A trovare una strada sicura Piuttosto che a campare di sogni In realtà in quel momento mi fece capire Che voleva ancora che io cantassi E allora mi sono data da fare Perché da una parte c'era Penso che un pochino sia la situazione di tutte le famiglie Cioè quello che il genitore deve dirti per paura E quello che il genitore vorrebbe per te E i miei genitori sono stati bravissimi anche in questo Perché mi hanno dato sempre la possibilità di intravedere Nei discorsi Quello che mi dicevano perché me lo dovevano dire E quello che volevano che io facessi davvero Alla fine ti hanno lasciato libera Ed è per questo che tu oggi sei una donna Sempre più a ruota libera Un'altra parte del corpo da commentare Ah se no Perché hai sempre dichiarato di averlo troppo grande Sì Forse farò un calendario adesso Ti piacerebbe metterti a nudo? Ma sì dai Cioè io la nudità non la vedo Non la vedo in una maniera morbosa Io diciamo penso che i corpi siano corpi Che siano tutti belli Che effettivamente Rappresentino l'identità della persona Cioè non Quindi Prima per esempio tu pensa Le più grandi opere d'arte Sono opere che raffigurano la nudità Adesso siamo diventati tutti Oddio cosa sta succedendo Oppure vediamo la nudità A volte anche Nella maggior parte dei casi Sotto forma di pornografia si può dire O comunque qualcosa che ha a che fare col sesso Invece non è proprio così E poi la sensualità è una cosa così bella Che poi mi piacerebbe a 90 anni 100 anni 145 anni Guardarmi indietro e dire Guarda però ero Ero bella Da donna ti assicuro che queste sono parole Che diventano perle preziose Mentre le pronuncio Facciamo insieme un bel calendario Dici? Sì Sono prontissima Se lo faccio con te Subito Va bene Ci può stare Oh qui l'applauso serve E non lo fate Cioè Prossima parte del corpo da commentare Cuore Cuore Allora il tuo cuore Non si è mai nascosto Perché Sei sempre stata una donna Ecco Per esempio leggiamo il tuo post Comincia adesso a dire Ti amo a chi vuoi tu A cuore pieno E bada che sia vero Impegna ti dici L'amore è un esercizio contagioso Salva Ti salva Prova Stai provando? Io ci provo tutti i giorni Ti consideri una donna coraggiosa? Per forza Altrimenti Però amare A modo proprio Perché nessuno ama Come vorrebbero gli altri Però io cerco di Amare tanto Guarda Amare Di amarmi Di Di avere questo sentimento In generale Se mi rendo conto Che sto provando qualcosa Che non Non mi piace La allontano Perché ti rende molto pulito Sai Ti rende Ti rende tranquillo Ti rende sereno Ti fa Ti fa Ti fa sentire meglio Avere Diciamo Un'aura D'amore È vero Tu stai amando te stessa? Io sì Mi amo A giorni sì A giorni no Ma Questione di tempi Perché anche amarsi significa Fare delle cose Nei confronti di se stessi Quindi avere delle piccole Accortezze per se stessi A volte C'è il tempo per averne A volte no Però di base Sì Il mio pensiero è sempre quello di Fare qualcosa Per volersi bene Un po' di più ogni giorno Altra parte del corpo da commentare Insieme a te Pancia Eccola Punto Beh la pancia è il mio punto debole estetico Ma sei sicura? Io ce l'ho da quando ero bambina C'ho sempre avuto sta panzotta No? Anche quando Ero Braccine piccole Ossette piccole Caviglie piccole Gambine piccole E sto pancino così Però sai Io non volevo parlare della tua pancia In questi termini Ok Anche se ti sei lanciata così Su un commento ingeneroso No va bene ci sta A me fa pensare un'altra cosa La pancia Mi fa pensare alla fertilità Ah Alla Alla fecondità Alla generosità Mi chiedono spesso se sono incinta comunque No 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 Lo sarai un giorno? Lo metti nei tuoi programmi? Sei una donna che dice questa cosa La devo fare altrimenti non sono abbastanza femminile? Oppure non importa? Io sono molto fatalista Pensa che io a casa Come sanno tutti Come sanno molte persone Io ho una cagnolina E un cagnolino Una coppia di maltesi Che non ho fatto sterilizzare E anche loro Ma come non li fai sterilizzare? Se si accoppiano E se si accoppiano? Pazienza Avremo dei nipotini E così anche per me Cioè nel senso che comunque Se me li manda Me li prendo Se non me li manda Non me li prendo Credo molto io Anche io Grazie Grazie a te Andiamo avanti Oh le gambe Abbiamo scelto le gambe Per leggere ancora una volta Qualcosa che hai scritto E che ti riguarda In questa foto tra l'altro bellissima Dove hai uno sguardo molto intenso Scrivi Grazie Tempo Generoso Che ti concedi a me Spero di averti ancora e ancora E che le mie gambe Abbiano sempre la forza Di andare oltre Dove stai andando Arisa? Lo sai? Vado Non so dove ma vado Poi mi succedono sempre cose bellissime Cioè alla fine Bisogna avere fiducia Sai io non è che voglio fare il guru Della situazione Però nella vita ho sofferto Veramente tanto E solo per colpa mia Solo per colpa mia E quindi Ho capito Che non per fare il filosofo altro Perché veramente sono Sono la regina degli ignoranti Veramente Però Che bisogna Avere fiducia nel futuro Andare sempre avanti Non lo so E gli altri oggi Chi sono per te gli altri? E gli altri Sono Sono gli altri Non ti lasci più condizionare? Eh no Perché sono stata condizionata Tanto in passato Tantissimo Sofferto tantissimo Tantissimo E siccome questo cambiamento Arisa nel 2009 L'abbiamo vista L'Arisa Alla fine del 2020 È questa donna qua È sempre parte Del suo processo Di crescita Allora ci sono delle cose Che forse non tutti sanno Quando io sono andata Ai live di Arisa Alle volte sono rimasta spiazzata Perché cantavo Ma quello che cantavo io Non era più quello che cantava lei E dicevo Ma è la stessa canzone Pensavo di saperla a memoria Invece no Perché lei cambia anche I testi delle canzoni Se non si riconosce più E allora sentiamo Come hai cambiato Almeno tre delle canzoni Più famose Nel tuo repertorio La prima è questa Io non credo nei miracoli Meglio che ti liberi Meglio che ti guardi Dentro Come fa adesso Questa canzone? Io ci credo nei miracoli Io ci credo nei miracoli Ci credo tantissimo Ci credo La vita è un miracolo Pensa a come riusciamo A venire al mondo Sconfiggendo La miriade di avversari Spermatozoi Che si dirigono con noi Verso l'ovulo E noi ce la facciamo E loro no E loro no E quello è il primo miracolo Secondo brano Non basta un raggio di sole E un cielo blu come il mare Perché mi porta un dolore Che sale, che sale Si ferma sulle ginocchia Che tremano E so perché Eh, questo non l'ho mai cambiato Questo dolore che sale, che sale È esistito? Esiste ancora? Mh Sì E con chi ha a che fare? O con che cosa? Eh, non lo so Penso con qualcosa Che arriva dalla mia infanzia C'è sempre un velo di malinconia Che comunque però Mi fa sentire Molto a contatto con La mia anima Quindi io Diciamo che non le eliminerei È una parte che Che mi piace Che mi fa Mi fa emozionare Che mi fa entrare dentro Le storie che leggo nei libri Che mi fa piangere Per i film Perché c'è sempre Un processo di medesimazione Che ti fa emozionare di più E quindi Non lo so Questa malinconia Mi serve anche per interpretare Le canzoni Per scrivere Mi serve tanto Quindi ci sta Mi piace Mia mamma quando ero piccola Mi chiamava Anna dai capelli rossi Sai quella che faceva proprio Tra palacrime Sì perché non lo sapesse a casa Era praticamente Sta ragazzina Con sta treccia rossa Orfana Che era stata adottata E faceva sempre Questi sproloqui No Del vento Del sole Alla finestra Tutta sta filosofia E mia mamma Da quando sono piccola Mi chiama Anna dai capelli rossi Un saluto ai tuoi genitori Ciao L'ultima canzone Che vogliamo ascoltare con te Ridere Adesso manca il nostro ridere Rimane solo Allora questa qui neanche ho cambiato Lo sai che l'ho cambiato? Quella di Rita Pavone Che fa Oh mio povero cuore E poi io gli dico Oh mio povero cuore Oh mio povero cuore Di più di più tu mi amerai Invece che tu soffrirai E questo è solo Una piccolissima parte Di quello che c'è dentro Questa donna straordinaria Che nel 2021 Cosa si augura? Nel 2021 mi auguro Armonia Serenità Creatività Felicità E mangiare un panino Sincerità E godimento E godimento Arisa Francesca Bella Che peccato Non ci si può abbracciare In bocca al lupo per Sanremo Viva Ci saremo In bocca al lupo a tutti Arisa Grazie Grazie